In oltre 25 anni di intrighi, intrecci e incesti, sembrava un vero record per Beautiful mantenere un minimo di licenza nei dialoghi tra i diversi personaggi che si sono succeduti a lungo. Il cedimento però è stato notato da molti aficionados della famiglia Forrester nella puntata dell'8 aprile, che Striscia ha riproposto ieri 14 aprile nella rubrica Trash i nuovi mostri. Nel calderone delle figuracce televisive sono finite l'Oredenale Ciso, alcune performance di Italia's Got Talent, ma il primo posto meritatissimo peraltro va al doppio senso tra Pam e Wyatt di Beautiful. La donna, perché si fosse perso la scena, è alle prese con un succulento arrosto che sta tirando fuori dal forno e vede Wyatt incantato di fronte a tanto ben di Dio quando esclama Stai sbavando sulla mia patata. Il doppio senso di Beautiful è talmente chiaro che Pam è sobbalza e archiviando la frase maliziosa Wyatt puntualizza di riferirsi alle patate nella pirofila. Ci sono commenti da fare? In teoria no, in pratica Twitter si è scatenato in risate virtualmente sguaiate sulla bassezza della battuta, ormai diventata epica.